Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia diretta da Giovanni Bombardieri al termine di articolate indagini di Polizia Giudiziaria, svolte anche con il supporto delle più importanti istituzioni da agenzie europee ed internazionali impegnate nel contrasto ai crimini trasnazionali, hanno tratti nel resto del ricercato Bartolo Bruzzaniti, originario di Locri, ritenuto essere narcotrafficante di rilievo criminale assoluto. Nel mese di ottobre del 2022, a seguito di altre indagini del GICLO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziare di Reggio, Bruzzaniti si era sottratto all'esecuzione di una misura cautelare messa nei confronti di altri 36 soggetti coinvolti allo Stato. Dal procedimento è fatta salve le successive valutazioni in merito all'effettivo e definitivo accertamento di responsabilità in un traffico internazionale di sostanze stupefacenti aggravato dalla finalità di agevolare l'andrangheta. In questa occasione, tra l'altro, i finanziari avevano sequestrato 4 tonnellate di cocaina, così sottraendo alla criminalità organizzata calabrese introiti stimati intorno agli 800 milioni di euro. Per avere contezza a livello criminale dell'arrestato, si consideri che lo stesso, secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, sarebbe responsabile della progettazione ed esecuzione di un vastissimo traffico di sostanze stupefacenti dal Sud America alla Calabria, consistente in periodiche e imponenti importazioni di oltre 2 tonnellate ciascuna. Quale ulteriore sviluppo dell'operazione Levante è importante anche evidenziare come in Italia Bruzzaniti risulti essere coinvolto in inchieste in materia di narcotraffico condotte dal coordinamento della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, diretta da Giovanni Melillo, dalle Procure Distrettuali di Milano, Genova, Napoli, le quali possono ora disporre dell'indagato. Nell'ambito della stessa misura cautelare figurava anche il fratello Antonio Bruzzaniti, anche egli irreperibile dal mese di ottobre scorso e successivamente ricercato e tratto in arresto dal Gico di Reggio al rientro dalla costa d'Avorio, paese dove si era stabilito. Bartolo Bruzzaniti era stato rintracciato dopo aver seguito da mesi le tracce tra l'Africa e il Medio Oriente, avuto il suo epilogo in un noto ristorante di Gionier, luogo in cui è stato sorpreso e catturato. Bruzzaniti rappresenta l'ultimo nonché uno dei principali tra i 76 soggetti che in tre anni di progetto le unità ICAN hanno contribuito a individuare e a far arrestare in tutto il mondo di cui 35 latitanti da tempo.